Tragico il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 8 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Pupino a Taranto al civico 84 per una fuga di gas. La deflagrazione ha causato il crollo del solaio e delle scale interne del palazzo privo di ascensore. Un uomo cingalese di 59 anni è morto, altre sei persone sono rimaste ferite, due quale risultate disperse, un'anziana e un bambino rimasti sotto le macerie. Uno dei feriti più gravi, un senegalese, è stato portato al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi. Gli altri sono stati trasportati al Santissima Annunziata di Taranto per le escorrezioni riportate. Gli occupanti dell'appartamento in cui si è verificata la deflagrazione sono originari dello Sri Lanka. Panico fra i residenti che hanno sentito il fortissimo boato e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia. L'edificio è stato fatto evacuare, l'aria è stata messa in sicurezza. Il traffico è stato interdetto dagli agenti della polizia municipale. Alcuni condomini hanno riferito agli agenti della polizia che l'appartamento in cui si è verificata l'esplosione era adibito a deposito di bombole del gas. Anche questo sarà opportunamente verificato.